Salve a tutti ragazzi e benvenuti da stima in questo nuovo video di Minecraft della Cuboidot Post. Bene, ho fatto un po' di cose, adesso andrò a dirvele. Ho fatto questa roba qui, vi faccio vedere come, con varie corbi, trutte eccetera che avevo fatto, adesso vi faccio vedere. Poi ho fatto questo che si faceva col melone, il seed, e poi ne avevo fatti degli altri veramente, non mi ricordo. Poi con questo che si fanno con le varie cose, che sono molto buone, predibate, una predibattessa. Allora, questo è un po' di cose che avevo mangiato. Comincio a mangiare un po' di cose perché voglio che mi aumenti la vita. Sono andato a combattere prima, mi sono spaccato il culo per prendere un po' di queste cose. Mi hanno proprio bagatato, però insomma sì. Adesso aspettiamo che ho mangiato la carne in marcia anche per prima perché così mi scende più la fame e posso mangiare tutto il resto. Ok, altri cuori, dopo gli altri li mangerò. Allora, cosa ho fatto? Come vedete ho cambiato un po' di cose. Vabbè, qui ho lasciato come era, qui ho abbassato di uno così almeno non avevamo problemi. Insomma, va un po' meglio, più carino da vedersi. Poi, cosa ho fatto? Qua ho lasciato esattamente come era. Qua ho aggiunto alcuni bonsai potter che ho fatto questa, che avevamo preso direttamente facendo questa qui, facendolo per terra, insomma. Poi ho preso questo, che l'ho fatta siftando questa che ho dovuto farla, infatti sono andato a combattere più e più volte per riuscire a prendere un po' di carne in marcia per fare questo. Porca miseria, insomma. Poi queste le prendevamo, prende la stanza, le ho trovate tanti. Queste ho la farm, questa ho la farm, questa ho la farm e il resto è stato facile. E quindi questo ho fatto così, poi, cosa ho fatto ancora? Ma non è mica fin oita, ho fatto anche questo, che è sempre la stessa cosa, anche palle, sempre questo colpo. Perché sto coso, in realtà, ci dà diverse cose. Vedete? Ci dà il melone, ci dà la beetroot, ci dà la pumpkin, la carota non sono riuscita a trovarla. Le potato le ho trovate, ho fatto la farm e questa l'ho fatta, è quella che dicevo, e questa l'ho fatta che aveva già fatta prima. Le potato mi mancano, no, le carote mi mancano le potato e le ho messe la patacca. Dov'è la patacca, porca vacca? Dove cazzo l'ho messa la patata? Dicevo, ma sì, mi lascio una pressionata. Ah, ecco qua la patata. E quindi, insomma, dai, a meno abbiamo anche un po' di roba. Poi qua ho messo le beetroot da fare. Volevo metterci qualcosa, sapevo che cazzo metterci, purtroppo qui in questo pack è limitatissimo. Ho messo anche l'industrial lamp, ma ho visto che l'industrial lamp non c'era tanta roba in questo pack. Vabbè, comunque niente, qui ho messo la cassa che esce, invece ho messo queste, ma insomma ne usa così poche, va così piano sto colpo. E questa è l'uscita invece che ho messo qua, infatti non è collegata, se vedete. Niente di che, tutto qua, non ho fatto altro, ho fatto allargato per fare la stanza, ho fatto l'altro corridoio, che qui devo mettere le due crafting table che devo craftare. E niente, ho fatto la stanza perché? Perché voglio fare tante cose. Allora, queste qui ve le ho fatte vedere tutte come si fanno, e quindi le toglierei tutte. Ok. Devo fare, allora, ho scoperto, ho scoperto, mi sono accorto che come nel pack della Stormblock 2 e così via dicendo, c'è anche questa mod che permette di fare l'acqua infinita, e credo che sia molto meglio, solo che ovviamente dobbiamo farlo tutta per, cioè, tutta, fare un determinato di macchinari per poter arrivare a fare questo, e quindi per adesso no. Allora, cosa faccio un altro? Io direi di andare a vedere le creste, perché comunque siamo messi bene, queste sono tutte finite, e la meccanismo, vogliamo iniziare la meccanismo? Dai, iniziamo la meccanismo. Allora, il metallurgic fuse si chiama questo? Sì, andiamo a prenderlo perché già ce l'abbiamo, quindi lo rompiamo, vedete, qui c'è un po' di freccia, ho preso un po' di, un sacco di roba, ho ceduto la gente, però insomma sì, è successo così, mi hanno bagatato. Oh, ma c'ho il pino dei cuori, di gialli, quindi il prossimo, di arancioni. Non so cosa ci sia il giallo, non lo sciò, vedremo, solo vivendo. Oh, posso prendere, vabbè, io posso prendere questa, così mi ha toggo dei merroni, salve. Ok. E niente, facciamo, diamo della meccanismo, mettiamo di metterci a posto un attico, qui l'ho mandato, perché ho lasciato il pc tanto acceso e così almeno ho fatto un po' di cose, perché, eh, cioè, abbiamo tanta roba che deve lavorare e lasciarla lì a non fare un cazzo mi sta un po' sui merroni e allora ho detto, ma sì, facciamo qualcosa, poco, eh, perché non è che ho fatto tanto, però qualcosa ho fatto. Ecco qua, così abbiamo messo via un po' di roba. E niente, eh, questa la metterai qua, così ho zappato, prima per fare sì che crescesse un po' di roba qua, ma poi non è crescito un cazzo, ho detto, ma faccio bossa ai poteri, ma chi se ne frega, tanti saluti, insomma. Eh, è un casino, perché la patata mi hanno disabilitato certe cose, insomma, vado solo col buon mille per accelerare, ho detto, vaffa a culo, mettono un bossa ai poteri, che faccio primola. E, insomma, sì, ho messo i semi che mi avanzavano qua, comunque c'ho da fare ancora il bambù, che devo vedere che cazzo faccia, e alcune cose. 80 roi. Il cocoa, come le pianto? Sulla pianta? Ma non c'è modo di farlo seed, c'è nel senso. Devo forza avere la pianta e farlo a mano, per carità, e lo faccio. Però quello della giungla, adesso non mi ricordo dove ce l'ho, adesso lo voglio fare, perché di fuori mi piacerebbe metterlo, però adesso devo capire quello della giungla qual è, di seed, che sicuramente abbiamo. Acacia non è, birch, jungle seed. Dovrebbe, e credo dovrebbe essere questo, così a meno lo facciamo crescere, tanti saluti, e così mettiamo il cocoa e tanti saluti, insomma, sì. Allora, io qua dovrei avere un'assia, o cara vecchia assia, ti saluto, e la mettiamo, così a meno abbiamo la farm di cacoa, bellissimo apostolo, quattro dovrebbero essere, ok. Vediamo se cresce, così glielo mettiamo. Ostia, ma è salve, lei mi piace tanto, sa? Ed eccoci qua. Quindi facciamo, adesso questo qui lo togliamo, perché non mi interessa, ok. E li mettiamo tranquillamente qua. Così almeno cresce, ogni volta ci vengo a prenderli, e siamo tutti contenti e felici, e non dobbiamo stare... Quindi se facessi così, crescono e crescono, non è male la cosa. Ok, io quindi se facessi così, quant'è per 39? Vabbè, dai, non è male come soluzione. Mi piace. Adesso li metto un po', li faccio crescere, dai, li metto qua a fare queste cose, e poi siamo a posto. Scusate, così li tolgo. Perché possono servirmi per, a parte da mangiare, ma, per fare nuove ricette, perché ho visto che la PAM c'è, ed è più potente in questo pack, quindi insomma, vorrei fare il più possibile. Oh, che bello, che bello, che bello. Sono contento. Guarda quanti ne sono cresciuti, sono belli belli, questi crescono tutti. Ok, a posto. Adesso andiamo, e facciamo, andiamo avanti. Adesso qui, quando voglio, vengo, mi mangio tutto, mi mazzolo tutto quello che c'è da mazzolarsi. Allora, andiamo avanti. Ti ho a posto i seed, metterlo qua. Vediamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare il metallurgico, ok? Devo andarlo a prendere. Intanto, ho già preparato la stanza per fare la meccanism, la previsione di questo. Vedete, tempo fa. Mi ero scusato di che avevo il pulverizer, perché, insomma, questa dopo la toglierò, ovviamente. Allora, adesso prendiamo questa. Ok, e questa è andata. Scusate. Ok. Adesso vediamo cosa ci chiede. Vabbè, questo dice cosa fa, ma lo sappiamo già, abbiamo già visto. Dobbiamo fare, allora, questi qua, si facevano, mi ricordo più, eh, cioè, porca miserica, e poi mi dai anche un po'. Devo fare il 32 con l'osmio. Oh, che palle. Andiamo di osmio, prendiamoci. C'ho la farm, non è un problema, insomma, sì. Però, osmio. No, a parte che l'avevamo proprio fatto. Li ricordate? Io mi ricordo. Guarda quante le avevamo fatte, questo è l'iron, e l'osmio è qua. io farei uno stacco, così non mi preoccupo più. Qui cosa fa? Vabbè, ovvio, che questo facesse questo. Dove cazzo? Il Metalurgic Crusher, no? Il Metalurgic vuole la base di Redstone. Chiamiamo la farm, senza problemi eccessivi, ne prenderei, ne ho tanta. Ho lasciato il PC tanto acceso. Quanto mi fate di sta roba qui? Ma, sono abbastanza contento, va che è meglio. E quindi andiamo a farlo, piano piano, con molta calma, questo lo togliamo, andava qua, andava qua, andava qua, abbiamo fatto il Metalurgic, scusate. Quindi facciamo così, lui con calma se lo fa, io non ho fretta. Facciamo anche i potenziamenti di velocità, che ci vogliono proprio, però adesso facciamo così, andiamo qua, andiamo qua, questi poi piano piano le faccio, queste ogni tanto le vado a smeshare, a shiftare, siamo a posto. Andiamo avanti, le faccio, le sto facendo, ti preoccupare, farò anche tutti questi. Allora, finché non sblocco quello, questo non ha senso farlo, andiamo a fare questo. che ci vuole, io adesso farei un altro Metalurgic Fuser, che tanto ci serve, così almeno, usiamo anche un po' di osmio, usiamo un po' di cose, c'è praticamente tutto, sto facendo lì, a rispetto a chi... Porca vacca, ok, devo andare a prendere la cosa che ho appena fatto, credo, che non mi ricordo cos'è che volesse, ma no, c'è tutto, ma cosa dico, ma siamo anch'io, che cavolo, andiamo qua, e facciamolo, così, ne facciamo un altro, insomma, non è che il dottore mi ha detto, no, a farne uno, poi basta, ingrassi, eccoci qua, ne ho fatto uno, farei quasi due, però insomma, sì, va bene, così, facendo, per il momento facciamo così, ne faccio dell'altro di osmio, con dell'altro di questo, e siamo a posto, così, anche se dopo devo fare altre cose, insomma, non ho i problemi, insomma, ecco, così lo riusci a fare tutte le sue cose, queste le facciamo, ne volevi un sacco di questa roba, pensi che ne farò tanti, per farmene fare 32, e poi me ne dai tra 1 e 16, per carità, ognuno dice quello che vuole, poi ci vediamo più tardi, ok, dovrebbe aver finito, 21, allora qui ho fatto un output, guardate, gli ho messo così, gli ho messo un input qua sopra, così almeno me le butta qua dentro, e chi si è visto, si è visto, ok, così ne vogliamo fare tanti, ve lo dico, perché ho visto, e questo, ho detto, ma sì, insomma, ma sì, ma no, e facciamo così, così siamo tutti a posto, qui sta facendo, adesso li sta facendo, piano piano, adesso vediamo di pedalare, world, mio signore, mi di un po' di roba, insomma sì, allora, e questa è fatta, allora, poi dobbiamo andare, quella dopo, ah, questo qui cos'è, un tier basico installabile, per gridare, e può essere usato, direttamente, sulla macchina, questo, farà, lo farà andare, insomma, facendo lo so, con kickdash, in pratica, ti convertirà, il basic machine, dentro quello, in cui, oh, che cazzo di figata, non, c'era nella versione, che giocai io, 1.12, almeno, non ricordo, e quindi, è una cosa buona, beh, io, sono più che contento, non doverlo fare, i mi tir da capo, così, insomma, sono posto, no? Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, e facciamo così, allora, me lo vuoi fare, grazie, sei molto, molto gentilo, ma io ne farò i tre, perché tre me ne servono, e siamo tutti a cavallo, vediamo come funziona, è una figata senza fine, ma meno male che ho letto, perché se no, insomma, sì, facciamo così, no, così, ok, me l'ha progredato, certo che le torce sono una scorsatura di meroni, senza fino, oh, vai, così, oh, mamma mia, mi sono sfondato le ore, mamma mia, che cosa sbarona che ho fatto, e questo qui apre lo scenario, diverse cose, quindi, scusate un attico, dopo uno dice, e insomma, sì, no, facciamo così, direttamente, io prendo tutto il spacco, tutto quanto, lo sfondo proprio col macchinario, e insomma, eccoci qua, vediamo un po' qua, qui, qui, è di proprio errore, che cazzo sto dicendo, porca vacca, oggi sono proprio fumato, che ha detto solo oggi, allora, vediamo di riempirlo, ti sfondo te macchinario, mi raccomando, no, qui sopra, non ce la faccio più, e andiamo qua, ok, adesso facciamo così, e siamo a postolo, lo so che lo posso mettere a mano, per carità, però, insomma, mi piace più così, ormai l'ho messo, ok, questo si andrà a sfondare, adesso prendiamo un altro po', adesso sono contento, sono cose che fanno piaciore, insomma, sì, almeno uso un po' di cose, ok, bastano, per quello che devo fare, anche più che sufficient, vediamo un pochino, così almeno lo lascio andare, questi, gli faccio tutti i basici, così almeno, sono a postolo, qui adesso, piano piano, li facciamo tutti, poi lo metto nella cassa, come riserva, e quindi siamo a postolo, andiamo, ma succhia come un succhiatore, insomma, è una roba sversa, vabbè, adesso lo mettiamo qua, e qui si mettiamo qua, così dopo, quando servirà la roba, lui si sfonda tutto, qui si riempirà, adesso facciamo così, perché qui non ho da sfondare, da, eh, va bene, andiamo avanti, facciamo così, e questo è a posto, qui, adesso faccio l'altro metodo di gifuse, vado a capire, così li metto a fare questo, così andiamo anche in quella direzione, perché in questa, non me l'ha ancora abilitato, ma porca vacca, allora, devo mettere le basi di, di coal, allora, facciamo le cose fatte bene, tanto, ci servono questi macchinari, dopo, in più, li possiamo sempre togliere, e quindi non abbiamo problemi, eh, io li prendo anche per dopo, non si sa mai, poi, questo qua, prendiamolo così, e siamo a posto, ok, ne vado a me, ah, il coal, scusate, mi sono dimenticato, il coal, signor coal, dove cacchio è, oh ma salve quanto ce n'è qua, che cosa che, aspetta, il coal si faceva con, eh, con qualche cassa, ora la devo fare, dov'è metterlo in gifuse, mi sono proprio cecato, e non c'è però, qui cazzo, ora ora, ora, adesso ci guardo là, dai, perché mi sono dimenticato, allora, metterli oggi in gifuse, sto pensando, che lo faccio scaricare, questo non mi interessa che scarichi, allora, adesso, chiediamo, e siamo a posto, e qui ci mettiamo questo, così lui si carica tutto, e siamo a posto, cosa ci va con la base di, vabbè, c'è poca roba, lo vedo, insomma, non mi ricordo più, purtroppo sono sbadato, sono distratto, ah, sì, questo, che si mette il ferro, perfetto, il ferro, abbiamo un pocosino qua, proprio un cazzo, mi scusi il signor ferro, lei è un po' poco, adesso lo vado a prendere, così lei si fa, così siamo a posto, insomma, non dobbiamo guardare in faccia nessuno, il ferro, ecco qua, lui con calma si farà, qui mangiamo che è meglio, perfetto, andiamo a fare anche questo, lui un po' lì c'è, un po' qui c'è, e siamo a posto, adesso questo qui piano piano si riempie, e lo mettiamo qua, così quando ci serve, gli andiamo a infilare, e siamo a posto, ok, adesso piano piano lui farà quello, quando ha finito, dopo vediamo il resto, adesso cosa c'è, questo, devo fare questo, che lì ho qua, facciamo così, e siamo a posto, direi, poi, vuoi questi e altri, e ho anche questi, perché ho inserito per fare dei macchinari, e siamo a posto, direi, vuoi le reward, ok, io non ho problemi, se tu mi dai le reward, così vediamo anche quanto ce ne è andate, questi qui sono tutti in più, perfetto, un 18, uno 5, non mi lamento sicuro, io insomma sì, allora mi hai sbloccato questo, batteria, una tavoletta energetica, usata, con una batteria, nelle macchine, è un gadget, non ci ho capito un cazzo, in generale sono, non sono, adesso, non sono molto buoni, ma, ok, lo posso fare, ah sì, ho capito, l'abbiamo già usato, questi, perché questi si usavano, per fare, l'asvitatore, l'asvitatore, per fare, questa è la base, per fare le batterie, insomma sì, ma si faceva anche questo qua, esatto, che noi l'abbiamo fatto, ci sono i solar generator, sì, qui c'è un sole qui dentro, che spacca proprio le rocce, mamma mia che rocce, che rocce che ci sono da spaccare qui, vabbè, facciamo anche questo, andiamo a farlo, tanto la roba ce l'abbiamo, insomma, chi siamo noi, per dire di no, mi scusi, Samy può fare sto coso, grazie, molto gentilo, ma io ne farei un po', ovviamente non sono staccabili, e tanto, adesso li mettiamo qua, che tanto facciamo qualcos'altro, ok, quindi andiamo avanti, adesso ce li farà usare, insomma, se ce l'avete di farli, eccoci qua, e ci ha sbloccato questo, questo cos'è? Non ti piacerebbe essere, capace di prendere le singolarità, torno a te, più o meno velocemente, e saltare tutto il tempo? Allora, che cazzo è sto coso? Free runners? Ah, per correre, e saltare, ottime notizie, il free runner, e i boot, il free runner, sono dei piedi, insomma, dei stivali, che hanno, queste sono, hanno bisogno di energia, e saranno usati, dalle scarpe, probabilmente è questo, ok, assorbe il danno, e consuma energia, boh, c'è anche uno scudo, buono, ma ricorda, di ricaricarlo, altrimenti, insomma, lo pigli in culo, è una roba, la traduzione è quella, io ho solo letto, allora, vediamo un po' di farlo, ovviamente, e siamo a posto, quindi, io facessi, resi così, sarei a posto, ma tu, mi devi dire, come cazzo li, li charge, sti cosi, perché, se tu mi dici solo, che vanno ricaricati, non mi dici come, io cosa faccio, speak, getting, a posto, siamo a posto, così, insomma, sì, allora, un personal, un personal attrezzo, di equipaggiamento, per caricare, in ogni caso, tu puoi, spingerlo, in una, Maxinex, freshly made, si vabbè, ho capito, che non me ne frega un cazzo, l'ho capito bene, quello, proprio bene bene, allora, vediamo un po', di andare qua, dove cazzo sono andato a finire, sciamma sì, andiamo a prendere, sto cazzo, perché non l'ho sottolineato, e non prendo niente, eh vabbè, che ci volete fare, ok, facciamo così, e facciamo, ovviamente non questi, che si fanno con, la Polish Blackstool, ma facciamoli un po', in realtà le avevo messi a posta, i nevi, ok, tre, perfetto, dovremmo poterlo fare, eccoci qua, meno male che avevo già fatto lo stilo, da parte ce l'avevo, quindi siamo a posto, allora, dove lo metto sto coso, avrà bisogno di energia, perché, insomma, penso proprio di, sì, che cazzo l'ho fatto fare, insomma, ma, è brutto metterlo qua, io, se no, è, chiaro, no, è un po' l'italiano, allora, qui come sta messo, dovevo vedere qua, eh, ma ce ne ha un sacco, qui come sta messo, eh, ma ce ne ha un sacco, qui come sta messo, eh, ma ce ne ha un sacco, vabbè, dopo questa la sposto, adesso per adesso, adesso per adesso, lo metto qua, devo andarci sopra, ok, eh, non capivo, scusate, infatti, mentre push, cioè, premici sopra, e quindi farà la magia, insomma, ok, abbiamo, abbiamo usso l'energia, e adesso io dovrei far così, come corro, me lo dirà, mi toglie un po', per la pazienza, andiamo avanti, e cosa, questo mi interessa, perché comunque ci permette di, oddio, dobbiamo andare su, questa è la parte della meccanica, che mi piace di meno, ma proprio di meno, diciamo, perché quindi, il chemical tank, può essere usato, per storare i gas, sotto pressione, succhia anche l'ossigeno, e l'idrogeno, il basic tank, può contenere 64 mila di gas, insomma, di cose così, vabbè, facciamolo intanto, per carità, sarà anche buono, tanto se dobbiamo usare qui i macchinari, dovremmo farlo sicuro, questo lo possiamo togliere, questo lo possiamo fare, e siamo a posto, ok, questo è il basico, ok, perché me ne fate così tante? mi avrà aperto anche altri task, vabbè, tanto sempre così, cosa vuoi? Che faccio un sacco di roba, ok, così, tu non sei attualmente, partito a fare la griglia, che griglia di che? Probabilmente, non sei, ok, in particolare, non puoi andare, non puoi avere bisogno di odrogeno, più avanti, di ossigeno, se costruirai un elettrolytic separator, tu potrai prendere in mano, più semplicemente queste cose, insomma, un elettrolytic separator, supplique with the water, and the power, and the wind, ok, tutto claro, tu puoi usare il bucket, manualmente, spingendo nell'acqua dentro, ma no, perché vorrei fare, sì, ho capito, inizialmente puoi fare così, perché hai ta, però insomma, noi vogliamo automatizzare, no? Adesso quella pump che ho fatto, fa cacare, ma l'ho fatta solo perché, quella lì della Immersi, perché so che era un ambiente chiuso, la mettevo via, e tanti saluti, tutte le pump che ho fatto, le ho tutte murate, quindi insomma, però, eh, insomma, questo coso, io, forse mi, a tutti c'è danno, da caduta, non lo so, qualcosa farà adesso, vedremo, se lo tengo, cioè, se mi aumentava sensibilmente la velocità, era un discorso, magari non mi consumi fame, no, ma consumi lo stesso, non lo so, vabbè, ci penso, allora, questo lo possiamo togliere, e adesso, possiamo fare il, e poi, anche questo, che è l'Electric Core, che cazzo sarà, servirà per fare quello, dai, tanto cazzo vuoi che serva, non è che il sciompa me lo porta dietro, eh, vediamo un po', e infatti, immaginavo, allora, per fare questo ci vuole questo, ovviamente non ho le polveri, perché devo andare al Pulverizer, l'Iron, e dell'Osmio, non c'è problema, Iron e Osmio, li ho qua, allora, polverizziamo un bel po' di Iron, se lo trovo, l'ho finito tutto, non lo trovo, com'è possibile una cosa del genere, ah, ma ne ho preso tanto, effettivamente, monta, ok, e di Osmio, che ne ho pochissimo, perché l'ho usato tutto, vero? Vabbè, si fa, ce l'ho a farmi, in senso, ma, cioè, ma tutto è no, però, diciamo che ne ho un po', ecco, tutto qua, allora, questo facciamo, cos'è questo Osmio, vai, questo ferro, così ce l'ho, io farei, così, c'è un po' di Osmio, lo rimetto qua, così se serve, ce l'ho, adesso, cosa facciamo, andiamo a polverizzare, perché polverizzare è l'unica cosa che avevo, ma io farei, non mi fai fare il crusher, che cosa strana, non me lo chiedi, ma io il crusher lo farei, mi piace, insomma, perché non farlo, crusher, adesso poi mi diranno che il crusher, c'è scritto malvero, allora, facciamo così, facciamo che ci salutiamo, se no faccio un video lunghissimo, va bene ragazzi, adesso mi organizzo, poi vi dico, quindi come al solito, vi invito, lasciate un commento, se vi piace a Stefano, sapete cosa pensate, per adesso vi saluto a Siva, ciao ciao,